A San Cataldo è stata ridotta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, una novità che avvantaggerà i commercianti dei vari settori. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l'assessore comunale allo sviluppo economico Marianna Guttilla. Le nuove tariffe sono state definite nel corso di un incontro tenutosi nella sala consigliare di Palazzo delle Spighe. Presenti oltre all'assessore Guttilla il presidente provinciale Cidec Domenico Danisi, il commerciante Luca Davide Dell'Aira, insieme ai dipendenti comunali dello sportello unico per le attività produttive del settore tributi. Il sindaco Comparato e l'assessore Guttilla hanno espresso la loro soddisfazione per il buon esito della trattativa, sottolineando la sinergia tra amministratori sindacati e commercianti.